ah regà notizia bruttissima casa congiunti imperfetti sono entrati i lati guardate che cosa ci hanno fatto stiamo raccogliendo tutto già da mezz'ora allora io ve lo faccio una domanda seria perché in mezzo a tutto sto macello regà io non trovo le ciabatte se cortesemente mi volete dare e se mi fate una cortesia per favore grazie ok lo voglio bene raga adesso ci stiamo rilassando abbiamo pulito tutto il disastro che avete visto amo che hai provato una sensazione bruttissima come essere violata e adesso che è finito cioè nel senso che non vedo più tutto quel casino mi è rimasto proprio lo schifo e c'ho in testa le immagini di quei schifosi che sono entrati una cosa la cosa più brutta e vedi i bambini che piangono perché hanno rubato il suo patanaio con i loro 30 euro vi rendete conto regà vabbè auguriamo a tutti voi che non vi succeda mai una cosa del genere ciao belli mia buonanotte a tutti